La Virtus Francaville e Bruno Trocini ancora insieme. Il club bianco celeste, nono al momento dello stop del campionato di Serie C, Girone C, ha trovato l'intesa con l'allenatore di Cosenza per proseguire il rapporto in panchina fino al 2022. Ad annunciare l'accordo con Trocini, cercato da Teramo e Catanzaro con un post su Facebook, è stato il presidente Antonio Magri in compagnia del DS Mariano Fernandez, fresco di conferma del contratto valido fino a giugno 2021, e del vicepresidente Tonino Donatiello, un'intesa sulla quale le parti erano a lavoro da giorni e che è stata definita cena. Arrivato a Francavilla Fontana a novembre 2018 al posto di Nunzio Zavettieri, rilevando una squadra quindicesima e portandola al sesto posto in campionato e al secondo turno dei play-off, Trocini è passato in 18 mesi dall'etichetta di scommessa a quella di certezza. Sarà in sella anche negli spareggi promozione 2019-2020, ai quali la Virtus avrebbe diritto di partecipare grazie alla costante presenza nella parte sinistra della classifica, traguardo di rilievo per un club che fino al 2014 giocava in eccellenza. A prescindere da come andrà a finire questa tribolata annata sportiva, nel futuro del club Brindisino c'è ancora Mr. Bruno Trocini.